Le nostre strutture sanitarie sono assolutamente sicure, sono preparate e comunque la donazione è un atto che di per sé non espone a nessun rischio. Ha voluto tranquillizzare tutti e lanciare soprattutto un appello alla donazione di sangue l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, ospite ieri a Canosa di Puglia dell'Avis, nel corso di una manifestazione in cui sono stati premiati diversi donatori. L'obiettivo della tre giorni, organizzata in occasione della giornata mondiale del donatore con la collaborazione dell'amministrazione comunale della Proluoco, è stato senza dubbio quello di ricordare i donatori di sangue e premiare soprattutto quanti hanno donato nel periodo più complesso della pandemia da Covid-19. Donare un atto d'amore, un atto che ha permesso di non creare emergenza nell'emergenza sanitaria, un atto che ha salvato e continua a salvare moltissime vite umane, un atto assolutamente sicuro. L'occasione è stata perfetta anche per fare un punto della situazione su quanto sta accadendo in Puglia rispetto al contagio da Covid-19. In questo momento noi possiamo essere tranquille, cioè il cittadino deve essere tranquille. Quello che dobbiamo fare noi, sanità pubblica, comunque è mantenere sempre alta la guardia. È vero, abbiamo pochissimi casi, quei pochi casi che noi stiamo in qualche maniera rilevando e quindi poi comunicando alla protezione civile, sono dei casi che cerchiamo attivamente, quindi sono dei portatori, per lo più si tratta di appunto portatori asintomatici, persone senza sintomi, che comunque devono essere identificate e isolate appunto per cercare di contenere la trasmissione della malattia. Il professor Lopalco ha provato anche a spiegare il perché vi è una minore richiesta di tamponi, anche se i numeri restano più che alti, in una ricerca che ormai è diventata solo ed esclusivamente attiva. Ovviamente di fronte ad un calo dei casi non c'è attività, quella che si dice il contact tracing, cioè il fatto di andare a ricercare i contatti, quindi essendoci pochi casi ovviamente ci saranno anche meno tamponi. In Puglia c'è quindi una coda dell'epidemia, aumentano i guariti, diminuiscono gli attualmente positivi, anche se con numeri più bassi rispetto a qualche giorno fa. Quando noi parliamo di guariti sono persone che hanno due tamponi negativi, quindi tante persone sono in questo momento guarite clinicamente, cioè non hanno sintomi, stanno bene, soltanto che non si riesce ad avere due tamponi negativi uno dietro l'altro, quindi continua ad esserci magari dei tamponi positivi e finché non si negativizza il tampone, non possiamo dichiarare la guarigione di queste persone. Il virus circola meno, ma secondo il professor Lopalco non è mutato, bensì c'è solo una maggiore prevenzione. Il virus circola di meno, circola di meno, c'è un'attività di prevenzione importante in atto per cui si bloccano le catene di contagio, si mettono in sicurezza soprattutto le persone fragili e quindi, come dire, si è indebolita l'epidemia, il virus è sempre quello e sta sempre lì, quindi massima attenzione, un po' di prudenza da parte di tutti e massima allerta da parte della sanità pubblica. Per questa fase 3, da poco iniziata, sono pochi e semplici i consigli da seguire. Bisogna evitare i luoghi molto affollati, evitare gli assembramenti e, se si è a distanza ravvicinata, soprattutto al chiuso, indossare la mascherina.